Grazie a tutti e benvenuti a Stagio di Musica della Scuola Noti d'Anzanti. Ben ritrovati. Sono passati quattro anni per l'ultima volta che ci siamo visti al teatro e siamo sicuri che anche voi come noi ne avete sentito la mancanza. È stato un periodo difficile, fatto di paure, di cambiamenti forzati e di adattamenti a cui tutti ci siamo dovuti abituare. Pensate solo ai vostri ragazzi che hanno dovuto imparare a sostenere le lezioni online e che solo grazie alla loro passione hanno resistito. Questa sera finalmente riscuotono il dovuto riconoscimento esibendosi per voi su questo calco. Buttiamoci tutto alle spalle adesso e godiamoci i vostri figli, i nostri allievi che sono particolarmente emozionati vista la sosta obbligata. Ci rendiamo conto che il programma è corposo, ma abbiamo voluto che ogni allievo scegliesse cosa suonare. Se lo sono meritato e non vediamo l'ora di cominciare. Prima di iniziare qualche piccola raccomandazione, vi preghiamo di spegnere i cellulari e di applaudire ogni esibizione solo quando l'allievo si alza alla fine del bravo. Iniziamo la serata con i più piccolini che sono emozionatissimi. Allora avremo di Moretti, il sottomarino, al pianoforte Ginevra, basta. Di Wright, Tinkle Tinkle Little Star, al pianoforte Asia Grossi. Di Rossetti, ok per il castello, al pianoforte Benian Pascali. Di Thompson, le campane. Di Diabelli, Minuito, al pianoforte Carlos Magliaroli. Grazie. 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 Di Joplin, di Entertainer. al pianoforte Carlo Spagliaroli. Applausi. Grazie. 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 Grazie.